Argomento Grande Fratello Vip, cari amici, innanzitutto bentornati su Pausa Caffè, un saluto a tutti da Max ed eccoci qui per le ultime novità, perché qualche ora fa, proprio nella giornata di ieri, in realtà, è arrivata la decisione da parte della produzione del Grande Fratello Vip, sappiamo di squalificare Daniele Dal Moro, ma l'ex tronista è stato eliminato dal programma insieme all'ennesimo atteggiamento brusco avuto nei confronti di Oriana Marzoli. Perché ricordiamo che tra i due in questi lunghi mesi del reality, insomma, in tutto il periodo che sono stati all'interno, dove erano tutte e due in gioco, sarebbe nata una frequentazione, poi della quale si è parlato diverse volte anche durante proprio le dirette. Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono avvicinati molto soprattutto negli ultimi mesi, tuttavia non sono ancora riusciti a definire di preciso il loro rapporto. Ci sono stati continui alti e bassi tra i due all'interno del GF VIP 7. Soprattutto Daniele ha mostrato sempre poca fiducia nei confronti dell'influencer venezuelana. I dubbi sono stati soprattutto causati dalla brevissima frequentazione che Oriana ha avuto con Antonino Spinalbese, sempre all'interno del programma nei primissimi mesi. Tornando a parlare della squalifica di Daniele Dal Moro, pare sia avvenuta proprio per l'ennesimo gesto poco carino nei confronti dell'attrice venezuelana. Nonostante ciò qualche ora fa Oriana Marzoli, parlando con le sue due amiche più strette all'interno del GF VIP 7, ovvero Nicole e Jaele, ha confessato che ha deciso di conservare dei vestiti dell'ex tronista veronese. Tale bel gesto non è ovviamente passato inosservato da parte dei fan della coppia. Ciò che preoccupa gli Oriele riguarda ciò che non è avvenuto da parte di Daniele Dal Moro una volta uscito dal programma. Pare infatti che l'imprenditore di 32 anni non abbia iniziato a seguire sui suoi social network proprio Oriana Marzoli. Dopo il gesto dolcissimo di Oriana, quanto non accaduto da parte di Daniele, continua a far credere agli spettatori che tra i due sia molto più coinvolta l'influencer venezuelana e sorgono dubbi su cosa possa accadere fuori dal reality. Ricordiamo che Oriana Marzoli al momento è una delle due uniche finaliste del GF VIP 7. In tantissimi si domandano se una volta uscita anche lei dal programma, Daniele si farà vivo ed entrambi potranno continuare questa frequentazione al di fuori, senza telecamere. Ovviamente gli Oriele tifano per loro e sperano possa questa coppia durare nel tempo.